Grazie a tutti Siamo da due ore quindi ancora non ho visto nulla ma ho due giorni davanti e spero di vederla e so che è bellissima e divertente soprattutto Stigla è sempre due ore, quindi non si vedeva e non si vedeva, ma non si vedeva i due giorni a vedere, perché ho capito che è prelepo, grazie Allora, la prima ora e mezzo sono stata in albergo, nell'ultima mezz'ora sono stata qua, quindi ho visto sicuramente Isadora è un esempio delle donne bellissime e dei ragazzi molto carini Diciamo subito che non è un programma pornografico, è un programma, io sono una giornalista, non sono attrice porno E questo è un programma che vuole informare sul sesso divertendo, noi parliamo di tutto senza tabù, senza immagini cube e morbose Cercando di far divertire chi ci ascolta Ma cosa è importante? E quanto è to importante? Domenizzazione muscoli o organo? Iacolo che mi credo che non è importante, è un poichino che è utile alla fine. C'è sì, sono un'imitazione da svegliere un'imitazione di un'imitazione un'imitazione molto grande, ma si sono davanti a chi non è un'imitazione. C'è una cosa? Spero che ora guardiamo di se, prima di prendere il nostro corpo che non ciò sia davvero alti, E a drugi si può essere accaduto da vedere un ero che è un mese anche e una parte premia. Megano, Megano, govado! Lei è stata fatta da cисi un ero che hai mai formato, ma che e poi si diceva che si era un risultato? Quoi hanno fatto? Oggi è stato fatta? lei adesso si lei ha fatto così ma è stato un ragazzo che è stato troppo bello e charmantico E il contrario, troppo grande? A quando è stato prevegli? E quando è stato prevegli? Cosa è si è divertente? E poi è successo bene. Questa è bene. Sono d'accordo? Non si può scegliere. Sono blaza, dirty inspector. E stai famoso, poi io lo so. Cosa da si poznata, ovi da to zna. Grazie. Tutti molto. Piaci. Pita, to znači da ne piši pesmo, te. Ona emisora? Ne. Ne, ne. Ne, samo o l'ubavi. Amore, amore. Only, only amore. Tutti, moja muza je Pamela Anderson. Moja muza je Pamela Anderson. Si. Ona je l'ubav mogu života i ona mi je pomogla da napišem mnoge pesme. Pita, da li je pomogla postivaciju? Ajebar je dobar za zima, ma ne znam se potrebati da bo. Yavise, balcone. Yavise, balcone. No, 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 no. No, no, no. Wait, wait, wait. No, no, no. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti